Giovedì 1 novembre soffia un forte vento qui a Venezia, siamo sul ponte dell'Accademia, sono le 11 e mezza, mezz'ora fa sono suonate le sirene che annunciano un ritorno di acqua alta. La marea cresce ed è previsto che si raggiunga intorno alle 14 e 30 un livello di 120 centimetri, certo un livello accettabile rispetto alla marea eccezionale del 29 ottobre che ha raggiunto i 156 centimetri, ma 120 centimetri comunque significano che il 28% della città sarà allagata, quindi un'altra giornata difficile si paventa per la città lagunare. Anche la qualta provoca danni e molti a quote non eccezionali, certo sono meno visibili rispetto alla devastazione della montagna dove davvero la parola disastro non è impropria. I 156 centimetri di lunedì 29 ottobre hanno lasciato il segno anche nei turisti che si sono attrezzati e girano bardati di tutto punto con stivali di gomma, copriscarpe impermeabili ed ombrelli. Sentono le sirene che annunciano l'innalzamento della marea e sono informati. Non si meravigliano nemmeno del cambio delle corse dei vaporetti, alcune sospese, altre interrotte o deviate. Per tutta la giornata del primo novembre la marea resta sostenuta con codice arancio. Grazie. Grazie.